bellaci raga io sono Lorenzo G di Lorenz gaming e oggi mostrerò come scaricare minecraft gratis sul cellulare allora prima di tutto andiamo su google scriviamo così guardate app apptoide così guardate lascio due secondi per farvi vedere ecco qua ecco qua andiamo su apptoide facete qui install apptoide scrivete io ho fatto qua ecco qua andate qua sopra sta la finestrella ecco qua schiacciate no cazzo ho sbagliato schiacciato ecco qua schiacciate qua installa mi fa sto cerchino ma ma voi non so cosa fa però mi fa il cerchino che mi è Huawei ecco lo sto ecco qua adesso andate su apptoio aspetta no adesso non funziona perché deve essere installato due deve essere uno qua poi potete cancellare pure il primo e potete mettere il primo e il secondo vedi adesso sono due episodi possiamo pure cancellare il secondo ecco qua andiamo su questo e nene ciao qui scrivete minecraft così andate qua eccolo qua minecraft vedi non ho scritto qua 100 euro 50 euro ma installa come prima dobbiamo aspettare che lo installa ecco adesso si installa ci vorrei un bel po' non sapete cose che sono fatte fatto, non andate su agri, cogliete eccolo qui, il nostro mic up, se vuoi non ci bug, non ci esiste niente, né bottoni niente facete un mondo e tutto sconciocato, quindi mo vi faccio vedere come mettere qua andiamo su gioca e mettete qua questo puoi vedere pure aggiornarlo, ma io non lo so aggiornare, me l'ha aggiornato mio fratello ecco qua facciamo che carichi il mondo opla come prima aspettate vado a dormire eccolo qua, l'abbiamo installata su Minecraft eppure gratis adesso vi faccio vedere se si bug voi andare su impostazioni aspettate che da me un po' leggi il telefonino ecco qua andate qui su su video ascolto un'interfaccia se si serve questo allora questo è per mettere l'interfaccia vedi grafica vedi c'è la mano niente più oggi niente più come dobbiamo fare andiamo qua aspettate salto salto scusate perchè io se c'è il bottone mi sbaglio andate qua ecco qua qua facete allora il conditore lo metto perchè mi serve il vertiasi non lo facete che direi mancini eh controllo mouse cronatico cino cerco la macchina video luminoso ecco qua questo è per scaricare micah ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi e e e e e e